Quello che ogni volta mi porta a viaggiare in questo genere di posti è la libertà sconfinata che essi possono dare e lo fanno tramite il silenzio e i colori circostanti Ogni posto però è fatto a suo modo ma in questo, più di altri, sono riuscito a trovare una parte del mio luogo ideale Ecco a voi l'episodio finale sulla Valtellina Grazie a tutti 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 Grazie a tutti